sapete sapete non sapete non sapete come questa in cui si suonava come a parte del grande impero del piccoli che Miss best speak imperatrice del blues usava la storia per le proprie serate conoscere degli uomini portarli a casa e l'anno fino a dopo non rinfrumarla più dal dentro era una ricetta molto seccante non so se mi sia fatto portare e così best speak si rispisse il blues del letto vuoto quando vi svegliate la mattina d'opera non c'è più questo luogo non sapete neanche se lo avete impaccinato oppure c'è stato da te empty non sapete 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.